A Mascali la conferenza dei capigruppo della settimana scorsa si è rivelata un nulla di fatto perché le attività consigliari sono ferme da settimane ed è un'ipotesi che possano non essere convocate per tutto il mese di ottobre sedute di consiglio comunale. I consiglieri aspettano l'arrivo in aula del conto consuntivo 2015 che resta sotto la lente di ingrandimento del neo insediato collegio dei revisori dei conti dal quale si attende un parere. Secondo diversi rumors due sarebbero i rilievi che i revisori sarebbero pronti a muovere. Intanto non convincerebbero le modalità del riaccertamento dei residui e anche la situazione di cassa e sottomonitoraggio dei revisori. Il sindaco Luigi Messina è chiamato a trovare una soluzione anche perché i problemi sul consuntivo influiscono anche sul bilancio di previsione il cui schema va ancora predisposto. Il consiglio comunale a Mascali sia maggioranza che opposizione attende che l'impasse finisca. Carmelo Caltabiano potrebbe richiedere a breve un'audizione in terza commissione ai revisori ma anche sul piano politico Luigi Messina sta vivendo un autunno complicato. Sta riprendendo forma il malessere del gruppo Mascali C. Alberto Cardillo ha scritto una lettera al sindaco Messina invitandolo ad attenzionare alcune problematiche mentre Carlo Galati resta sempre sul piede di guerra. Nel gruppo progetto Sicilia è sotterraneo il duello tra Paolo Virzi e Piero Bonaccorsi su chi dovrà succedere a Nino Marino in giunta. Anche se l'intesa tra il leader di progetto Sicilia Salvino Patanè e il sindaco Messina resta salda. Tocca a Luigi Messina reagire e non farsi mettere alle corde.